A volte basta un piccolo gesto per trasformare completamente una persona, un qualcosa di così semplice che nemmeno ce ne rendiamo conto. È vero non è facile perché la diffidenza è tanta, quando alcuni aiutano cercano sempre di capire prima se ne vale la pena e se avranno qualcosa in cambio, e se non hanno quel qualcosa non fanno niente. Altri agiscono e vedono se la situazione cambia. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia molto particolare che ha cambiato la vita ad una persona in meglio, grazie a un'altra persona che ha saputo compiere un gesto di fiducia fuori dal comune, che sicuramente facciamo tutti fatica a fare di questi tempi. Che dire, preparatevi per un'altra storia e partiamo! Siamo a Modesto in California, una città dove il sole caldo schierisce la giornata a tutti ogni mattina. Anzi, mi correggo, a quasi tutti. Questo perché ci sono molti senza tetto che non vorrebbero vedere quella mattina, vorrebbero semplicemente non esserci. Andiamo con ordine. La storia parte con Gina Nomelli, una ragazza intenzionata a diventare paramedico. Prima di ciò aveva deciso di fare la poliziotta, proteggere gli altri era un suo obiettivo sin da piccola. Aveva le idee chiare, supportare chi ne ha bisogno, senza fare discriminazioni. Non capiva bene però se stava davvero cambiando qualcosa. Non capiva se davvero tenere una pistola e un distintivo stava servendo. In realtà lei voleva curarle le persone e magari parlarle per farle sentire al sicuro, proprio come un paramedico. Nel 2005 stava quindi per cominciare un cambio veramente bello nella sua vita. Aveva appena iniziato nelle forze di polizia e il suo compito principale era sorvegliare pattugliando le strade insieme a un suo compagno. Tra le zone c'era anche un parco sempre molto affollato e bello, con le solite persone, lavoratori, bambini e genitori che parlavano e sparlavano in base all'occasione. Ma aveva una zona dove la spazzatura veniva raccolta ed era un po' oscurata e nascosta dal resto. Proprio in questa zona, mentre stava finendo la pattuglia prima di andare a mangiare, aveva visto un senzatetto frugare nei bidoni. Sembrava davvero molto agitato, come se non volesse essere visto. Aveva così deciso di chiedergli se andasse tutto bene. In casi simili raramente i poliziotti si fanno avanti. Di solito lasciano perdere se valutano sia inutile intervenire, e di solito intervengono solo per prendere in giro la persona e abusare del loro potere. Ovviamente non tutti. Sapendo ciò, il senzatetto si era messo subito sull'attenti e, con voce timida, aveva detto alla ragazza «La prego, sto solo cercando del cibo. Non voglio far del male a nessuno». Questo l'aveva commossa, sembrava sincero. Lei aveva risposto semplicemente «Va bene, non voglio farti del male». L'uomo quindi si era quasi messo a piangere. Era la prima volta che qualcuno non li urlava contro o cercava di fargli del male. In molti posti negli Stati Uniti, i senzatetto sono trattati peggio della spazzatura, e per questo sono più soli di ciò che si possa pensare. E questo per colpa di pochi che fanno l'elemosina nonostante abbiano tutto ciò che gli serve per vivere, ingannando le persone. Comunque Gina aveva cominciato senza nemmeno accorgersene una conversazione con lui. Il suo nome era Will Levens, ed era diventato così per alcuni tristi eventi nella sua vita. Aveva una moglie, una casa e un lavoro onesto. Ogni mattina si svegliava, dava un bacio a sua moglie e andava via per le ore necessarie. Aveva dei progetti per il futuro. Voleva almeno due figli, un maschietto e una femminuccia. Voleva parlare con loro e insegnargli tante cose insieme alla moglie. Ma la vita non va mai come previsto. La vita ti prende a calci in faccia quando meno te lo aspetti. La donna aveva il cancro. Nonostante gli sforzi e le terapie, era morta. Chiedendo però a Will di non essere triste e vivere. Eppure era dura, era difficile. Perciò trovo rifugio nell'alcol e nelle droghe. Perse il lavoro per le continue assenze e non percepiva niente di disoccupazione. La casa non aveva finito di pagarla, quindi venne presa dalla banca, che lo aveva sbattuto fuori dandogli comunque molto preavviso. Ma non gliene importava niente. Perché sembrava abbandonato da tutti, i parenti, gli amici, nessuno si faceva sentire. Era solo come non mai. Aveva cominciato la sua vita da senza tetto per le strade di Modesto in California. Gina era rimasta senza parole. Aveva pianto e tutte le volte per molti mesi lo incontrava e gli parlava del più e del meno, offrendogli sempre quel cibo. Un giorno però Will aveva detto a Gina che poteva cambiare la sua vita. Grazie a lei aveva deciso di agire e fare qualcosa per migliorare. Era riuscita a trovare un po' di soldi per una carta d'identità, ma gli mancava ancora qualcosa, circa 10 dollari. Gina glieli aveva dati. Sapeva che molti senza tetto con problemi di alcol e droga utilizzano i soldi per comprare altre dosi. Ma voleva fidarsi. Ogni giorno vedeva dei miglioramenti nell'uomo, che sembrava più lucido e meno assonnato. E tante altre cose che l'avevano convinta ad aiutarlo. La settimana dopo le cose erano cambiate. Lei si trovava male sul posto di lavoro. Aveva un compagno di battuglia molto acido e che sembrava fare il suo lavoro contro voglia. Ma doveva resistere. Ancora qualche giorno prima di poter entrare nei paramedici a cui aveva fatto richiesta a mesi dietro. Infatti era riuscito a trovare un modo per coronare il suo sogno di curare i malati e portare il primo soccorso. Ma oltre a una vita lavorativa stressante aveva anche un problema con Will. era sparito. Eppure lo considerava un amico. Era sparito dal giorno in cui gli aveva dato quei 10 dollari. Cos'era successo? Si chiedeva se avesse fatto la cosa giusta. Forse aveva davvero preso un'altra dose con quei soldi ed era andato in overdose. Era quindi andata a sentire al rifugio in cui di tanto in tanto andava a dormire. E lì le avevano detto che non c'era più. Era sparito da giorni e nemmeno loro sapevano qualcosa. La ragazza aveva pensato allo scenario peggiore, ma cercava di toglierselo dalla mente. Perché finalmente se ne stava per andare via a fare il lavoro dei sogni. Dove avrebbe potuto aiutare tantissime persone nella situazione di Will. Si era fidanzata e aveva avuto la licenza. Erano passati così 14 anni dall'estate del 2005. Come ogni giorno era andata a fare rifornimento nella solita stazione di benzina. Era entrata per pagare, quando all'improvviso aveva visto un volto. Un volto che le aveva ricordato di quando era più giovane. Era Will, Will Evans. L'aveva chiamata da dietro dicendo «Ehi, poliziotta!». Aveva riconosciuto la sua voce. Era in fila ad aspettare di pagare. «Pagare per alimenti e benzina!». Gina aveva quindi compreso una cosa. L'uomo ha ottenuto la carta di identità che gli serviva. Infatti senza essa non potevano assumerlo per lavorare. Appena presa, era andato da un conoscente a cui di tanto in tanto puliva i pavimenti di nascosto in nero. Questo gli aveva trovato un lavoro vero nel suo ristorante. E da allora le cose sono andate sempre meglio. Will adesso aiuta le persone come lui e lavora onestamente per guadagnarsi da vivere. Ha superato la depressione e il problema di dipendenza dalle sostanze, grazie a vari gruppi. E ha detto che sarà sempre riconoscente alla gentile poliziotta che gli ha donato quei 10 dollari. Con questo concludiamo. Che dire, a volte un piccolo gesto può veramente cambiare le cose. Prima di finire volevo dirvi che le storie che racconto non sono inventate. Sono prese da vari siti di notizie su internet. E comunque siti che trattano argomenti simili. Cerco di portarli con linguaggio semplice e scrivendo più dettagli possibili. Per sapere le fonti guardate sempre nella descrizione. Noi ci sentiamo la prossima gente. Stesso posto, stessa voce, orario, diversissimo.